Eccoci nuovamente, ben ritrovati gentili telespedatori in una nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura parliamo di cronaca, cronaca giudiziaria, arriva da Caorle dove una donna, una trentenne, aveva denunciato lo stalking di un'altra donna che da tempo la perseguitava. Una chat aveva permesso di conoscere le due donne anche se quella di Caorle pensava di trovarsi di fronte ad un uomo, così non è stato. Da lì appunto il continuo richiesto di incontri e quant'altro, ma tutto si è configurato nello stalking e ora la condanna a otto mesi per questa donna. Sentiamo che cosa è successo nel servizio di apertura del telegiornale. Una penna finale di otto mesi per le molestie e gli atti persecutori, solo che in questo caso la persona che è finita davanti al giudice è una donna accusata di stalking nei confronti di un'altra donna, una trentenne di Caorle. Il processo in tribunale riguardava una milanese di 55 anni, Adriana Marinoni. La donna aveva avviato una relazione viacciata con una trentenne di Caorle, spacciandosi per maschio. Il rapporto era proseguito con una certa regolarità e la trentenne di Caorle, anche per la voce quasi maschile della milanese, aveva quindi accettato di partecipare a un incontro. Quando le due persone si erano viste la milanese in un primo momento, aveva sostenuto che l'uomo che sosteneva il contatto suo conoscente non era potuto venire e qui il rapporto si era praticamente interrotto. Tuttavia, nel giro di breve tempo, l'imputata, secondo quanto ricostruito dalla procura, ha iniziato a telefonare in continuazione alla giovane di Caorle, inviandole messaggi, d'altro ancora, sia al cellulare, sia al telefono di casa e anche al supermercato dove lavorava. Stando a quanto ha ricostruito il pubblico ministero, che ha dato via al processo davanti al giudice per fatti avvenuti tra il 2009 e il 2011, in questi comportamenti ci sarebbero state manifestazioni morbose di affetto, recriminazioni e pressanti richieste di incontro, come accade nei casi contemplati dell'articolo 612 bis. Alla luce di questo contesto, la trentenne di Caorle ha cercato di liberarsi da una situazione a dir poco pesante e ha fatto scattare l'inchiesta che è arrivata davanti alla dottoressa De Fazio. Alla base della condanna, a otto mesi infatti, c'è il grave stato di ansia provocato alla vittima che si era concretizzato nelle telefonate realizzate a qualsiasi ora del giorno e in numerosi messaggi. Ancora cronaca e torniamo a parlare di truffe con quel falso calendario per il quale dei giovani chiederebbero dei soldi, i furmetti che sono ancora in azione a San Dona di Piave, uno dei giovani sospetti è tornato infatti a chiedere le offerte per questo falso calendario del liceo Galilei, nonostante la direzione del Plesso abbia negato ogni coinvolgimento in questa operazione e invitato gli operatori a non aderire all'iniziativa per la quale si possono ravvisare proprio gli estremi della truffa. Cosa è successo? Un giovane ha cercato di coinvolgere alcuni professionisti con uffici nella zona di Via Calnova a San Dona, sembrava straniero, ha raccontato Manuel Tricomi, titolare dell'agenzia risercire, aveva tra i 16 e i 20 anni, parlava italiano in modo corretto, era vestito bene, sciarpa, giubbotto in pelle, pantaloni chiari, si è presentato chiedendo un'offerta di 5-10 euro per il calendario legato ad un concorso dello scientifico. Fatto sta che Tricomi si è ricordato però della notizia di cui abbiamo anche dato noi stessi, merito appunto a questa truffa. Ho detto al ragazzo che non mi risultava che la scuola avesse autorizzato l'iniziativa del genere, da quel punto l'individuo si è defilato in tutta fretta, intanto dall'interno di risercire lo stesso Tricomi è riuscito a fare una fotografia e a immortalare il giovane. Ora parliamo invece di altra cronaca, quella che arriva dai tribunali, cronaca giudiziaria in merito a quella coppia che aveva chiesto, si era fatta pagare per i loro servizi ma appunto come commercialisti ma non avrebbero mai versato poi il denaro. Spese pazze che poi erano state appunto fatte con i soldi dei clienti, tra ristoranti, vacanze piuttosto che acquisti spropositati. Sentite. Una volta ricevuto il denaro anziché utilizzarlo per i tributi, Nardin, traendo in errore i clienti, ne disponeva a suo piacimento versandolo sui conti correnti dello studio, suoi o della Bozzato. Sono state depositate in tribunale le motivazioni della sentenza con la quale il giudice Gualtieri ha condannato a sette anni di reclusione il ragionier Nicola Nardin e a quattro la moglie Luisella Bozzato. La vicenda, che ha scosso Iesolo e rovinato la vita ad almeno una cinquantina di persone, tra cui molti commercianti e imprenditori, scoppiò nel 2013, ma l'avvio del sistema risaliva al 2009. All'agenzia delle entrate Nardin dichiarava di avere solo dei crediti da compensare, intescava i soldi e ai clienti consegnava ricevute false. Quando negli anni successivi ai contribuenti iniziarono ad arrivare le prime contestazioni fiscali, il consulente raccontava che si trattava delle solite cartelle pazze e che non c'era di che preoccuparsi. Ma alla fine il sistema è venuto alla luce e molti commercianti si sono ritrovati a pagare le tasse che il ragioniere non aveva onorato. In taluni casi, aggiunge il giudice, creava false attestazioni di pagamento con l'intestazione dell'agenzia delle entrate. Negli anni Nardin ha cominciato a non riuscire più a far fronte alle verifiche fiscali che si erano innescate e nel 2013 si è recato alla Guardia di Finanza denunciando di essere vittima di un usuraio. Ma all'istruttore ha fatto emergere un quadro diametralmente opposto e privo di qualsiasi voglia logica che chi assume di essere vittima di usura spenda in beni voluttuali e cifre che Nardin e Bozzato sperperavano. L'inchiesta aveva appurato che in quattro anni sarebbero stati sottratti ai clienti circa due milioni di euro di tasse non pagate. La disanima dell'estratto conto delle carte di credito, aggiunge il giudice, evidenzia spese da capogiro per capi di abbigliamento, ceni, ristoranti e vacanze. L'imputato aveva poi detto che l'agio economico per la moglie fosse fondamentale e che temeva di perderla se non fosse stato in grado di mantenere un tenore di vita alto. Secondo il giudice questa condotta integra senza alcun dubbio il reato di truffa. L'imputato, si legge nel documento, agita in modo scaltro profittando della fiducia legata ai rapporti di amicizia di momenti in cui le persone offese per motivi di lavoro erano distratte. Deve poi rilevarsi che le sottrazioni sono iniziate in coincidenza con l'ingresso in studio della Bozzato e che la carica di legale rappresentante da lei ricoperta assume valore pregnamente comprovato dal fatto che percepisce lo stipendio tutt'altro che trascurabile di 120.000 euro all'anno. Una ventina di volontari sono arrivati lungo l'argine del Monticano a Oderzo per raccogliere circa una sessantina di sacchi di rifiuti. Dopo l'appello del runner Peter Gino, Giorgio Lovati sul gruppo Facebook, Oderzo Sregnala, si sono presentati appunto in venti che hanno risposto presente, tra i quali c'erano una decina di ragazzi indiani. I volontari sono stati divisi quindi in due gruppi di lavoro. L'uscita è stata organizzata in accordo con Savno che ha fornito guanti e sacchi di plastica. Sono stati recuperati anche i nominativi di tre eco-furbi e l'intero frontale di un'automobile è finito nel Monticano dopo un incidente. Tutto è stato inviato ora al comando della Polizia Locale per i controlli. Rimaniamo a Oderzo, parliamo del nuovo palazzetto a Malteo. Sarà tutto di colore verde, si armonizza infatti con le prealpi, così come è stato definito dalla sovrintendenza. Sentiamo qual è il progetto del nuovo palazzetto che a Oderzo evidentemente troverà una nuova location e soprattutto perché c'è davvero bisogno di nuove palestre. Sentiamo. Avrà una parete tutta verde il nuovo palazzetto a Malteo, colore che richiama il parco di Via Pontremoli, l'ambito del fiume Monticano e sullo sfondo le prealpi trevigiane. E' quanto richiesto la sovrintendenza in modo che la nuova costruzione si integri nell'ambiente circostante. Anche gli altri colori del nuovo fabbricato, precisa il progettista, l'ingegnere Filippo di Pisa, saranno in accordo con il paesaggio esistente. Il professionista ha regalato il progetto esecutivo al comune. Il nuovo palazzetto fa la parte da Leone nel programma delle opere pubbliche per il 2018 per 2 milioni di euro e sarà realizzato nell'area dove adesso si trova la palestra, nella scuola media a Malteo. In città manca una struttura da utilizzare come punto di raccolta per la popolazione in caso di calamità naturali, siano esse un terremoto piuttosto che un alluvione. La nuova struttura, prosegue l'ingegnere di Pisa, sarà in grado di reggere in azione sismica importante e potrà essere utilizzata dalla protezione civile come punto di raccolta della popolazione. Riguardo la capienza sarà la stessa protezione civile, a fornire poi le indicazioni. Guardando indietro nel tempo, l'ultima palestra ad essere stata costruita in città è il Palamasotti che risale a diversi anni fa. È innegabile la necessità di averne un'altra, con misure regolamentari, tenendo conto solo delle società del basket, della Palavolo e della Palamano che ogni giorno allenano oltre un migliaio di atleti e sono costrette a ricorrere a strutture sportive fuori comune pagando i relativi affitti. Il nuovo palazzetto avrà le dimensioni di 46 per 38 metri. Sorgerà il posto dell'attuale palestra andando ad occupare l'area dove libera verso ovest. Sarà possibile ricavare un campo da palamano, due da basket, tre da palavolo. È prevista la possibilità di tribune mobili o eventualmente fisse, ma queste non sono in progetto, aggiunge l'ingegnere di Pisa. La loro realizzazione e la loro posizione dipenderà dalle esigenze future. Una annotazione infine riguardo gli impianti tecnologici. Si conseguiranno un ridotto impatto ambientale, risparmio energetico, facilità di utilizzo, elevata sicurezza e alto comfort. Pertanto abbiamo un sistema radiante a pavimento con trattamento per ricambio d'aria e un sistema antincendio, ha concluso il progettista. E ora andiamo a Bibione per parlare ancora di cronaca e di furti. Furti nei cantieri, i ladri sono evidentemente sempre in agguato, ne sanno qualcosa proprio nella realtà turistica di Bibione dove l'altra notte i malviventi sono entrati in azione al Lido del Sole per mettere a segno l'ennesimo colpo, solo che questa volta a fare gol alla banda non c'era nessun attrezzo da migliaia di euro, bensì un bagno chimico. Se ne sono accorti all'indomani mattina quando gli operai sono arrivati in cantiere dopo la colazione e il caffè per il personale impegnato nei lavori di un villaggio turistico è arrivato inevitabilmente il momento del bisogno impellente. Peccato che quel bagno che avevano posizionato, così come da regolamento, nei pressi del cantiere fosse sparito. I ladri nel cuore della notte lo hanno rubato, un colpo da qualche migliaia di euro. Tutto è segnalato ora alle forze dell'ordine che stanno lavorando per cercare questo bagno sparito nonostante il fiuto degli investigatori non sarà comunque facile ritrovare la cabina. Rimane quindi il dubbio su chi siano gli autori dell'insolito colpo e soprattutto se prima di asportare il bagno lo abbiano svuotato. In caso contrario i ladri potrebbero essersi immacchiati non solo dello stesso reato. Rimaniamo a Vivione per parlare della tassa di soggiorno invece c'è stato un incontro di approfondimento tra l'amministrazione comunale e le sezioni di categoria che si sono date appuntamento per la fine del mese e dovranno decidere come intervenire per la tassa di soggiorno. Al baglio c'è anche l'iquota, quindi il prelievo della tassa di soggiorno in base a dei punti percentuali sul fatturato. Sentite. Tassa di soggiorno a Vivione si cerca la quadra. L'amministrazione comunale di San Michele a Tagliamento si è incontrata con le associazioni di categoria, riviando tutto a fine mese. Di fatto è un primo incontro dopo che le parti si erano allontanate per le vedute diverse. Il sindaco Pasqualino Codognotto puntava al raddoppio dell'imposta passando a 4 milioni e mezzo di euro a fronte dei 2 milioni e mezzo del 2017. Le categorie avevano ribadito di volerne discutere, poi con il rischio che il governo cambiasse le carte con la manovra finanziaria l'amministrazione comunale aveva deciso di far tutto in fretta, onde trovarsi poi senza alcuna opportunità. La distensione nel periodo post natalizio ha quindi portato al nuovo confronto voluto dallo stesso vice sindaco Gianni Carrer di concerto con i colleghi di Bibione. Al baglio ci sono diverse ipotesi, tra queste anche la modifica al regolamento sull'imposta. Di fatto non viene escluso il pagamento in percentuale. Insomma, non più un canone fisso per persona, ma una percentuale su quanto incassato. L'habit, che raggruppa le azienzie, sarebbe disposta ad accettare la nuova tipologia, puntando ad un 5% del fatturato. Tutto però dovrà essere discusso nei rispettivi consigli di amministrazione. Ecco allora che oggi si è ritrovato il direttivo dell'ABA, che raggruppa gli albergatori. La prossima settimana sarà volta dell'habit e quindi di Asso Camping e di Alp, che rappresenta i locatori privati. Tutti si sono dati appuntamento per il 31 gennaio, quando si riunirà la commissione consultiva, che, così come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, discuterà sulle tariffe da applicare per il 2018. Al baglio saranno prese in considerazione gli investimenti per Bibione, dai lavori per i nuovi progetti alla promozione, su cui si chiedono maggiori investimenti. A Motta di Livenza è morto Agostino Sartori, 86enne, era originario di Torre di Mosto, ma a Motta da sempre per anni è stato dipendente del Consorzio di Bonifica Basso Piave, dove è stato custode dell'impianto di irrigazione tra il Livenza e il Briang tra il 1955 e il 1991. Dopo il pensionamento aveva proseguito l'attività del figlio Giancarlo, deceduto nel giugno del 2007 in seguito a un incidente stradale a soli 48 anni. poco lontano, proprio da casa. A Portogruaro invece il nostro Aldo Curtarelli è andato a visitare la fontana che si trova ai giardini di Polito Nievo, proprio all'entrata del centro storico. Lo stesso Rambuschi, già esponente politico a Portogruaro, ha ribadito di questa fontana abbandonata a se stesso. Vediamoci le immagini e sentiamo l'intervista. Siamo nei giardini dell'Ippolito Nievo a Portogruaro, i giardini che danno il benvenuto a tutti quanti che vengono a visitare Portogruaro, perché è la porta d'ingresso della città. Oggi purtroppo devo far presente che questi giardini dall'agosto del 2017 hanno una fontana con i vari pesci rossi, ormai qualcosa di classico, che purtroppo questa fontana non funziona. o i pesci, diciamo ogni mese qualche pesce ovviamente viene a galla morto ed è anche putrefatto. Quindi perché? Perché non c'è un ricambio d'acqua, non c'è ovviamente un ossigeno che viene portato nell'acqua dovuto alla fontana, perché in quanto in ben sei mesi ovviamente questa acqua è putrida e senza ossigeno. Quindi ogni tanto qualche pesce morto che viene a galla, io personalmente sono molto sensibile a tutte queste cose e vengo qui a raccoglierli. Ho fatto presente sia l'amministrazione comunale di queste morie, di questa situazione di degrado che c'è in Portoguaro, però mi sembra che non ci sia alcuna risposta. Io spero vivamente che, anche grazie a questa emittente, che il sindaco di Portoguaro, che ha un obbligo nel mantenere viva questa città e pulita soprattutto possa intervenire, perché è inutile che i cittadini si diano da fare quando l'amministrazione comunale non è in grado di gestire ovviamente i beni pubblici. Quindi ancora una volta io faccio presente e farò presente anche in futuro per altre cose di degrado che ci sono a Portoguaro che io, che vivendo anche in centro storico, amo in modo particolare Portoguaro. Portoguaro non deve essere amata solo da chi che vive in centro storico, ma deve essere amata da tutti i cittadini di Portoguaro e in particolar modo di chi è stato votato a gestire questo bene pubblico. E ora andiamo a Sant'Ona di Piave per parlare di sport, ma soprattutto delle strutture sportive, più soldi dello sport per evitare emergenazione, sbandati e magari baby gang in giro per la città, lo avrebbe detto il vice sindaco di Sant'Ona di Piave con delega allo sport Luigi Trevisiol con una dichiarazione che alla fine del mandato è un po' testamento morale, è un po' una visione di quello che la politica dovrebbe fare in questo campo. Spero che con la ripresa economica il prossimo assessore riesca a trovare più risorse di me, si augura Trevisiol, più giovani sono impegnati in palestra, meno passano il tempo in strada, la funzione formativa ed educativa della pratica sportiva va tenuta, ha detto, nella massima considerazione perché oltre ad altri aspetti tiene i giovani distanti da altre distazioni, ribadisce Trevisiol. A Sant'Ona i fondi destinati quindi allo sport sono stati 15 mila euro all'anno, dal 2013 al 2017, troppo pochi per una città di oltre 40 mila abitanti, ammette lo stesso vice sindaco. Sono stati impegnati per dare qualche piccolo contributo, compresi eventi come la corsa ciclistica in notturna e la festa del primo maggio. Insomma che gli organizzatori hanno dovuto poi integrare con sponsor. Negli ultimi 5 anni molte risorse sono state impegnate per ristrutturare degli impianti, 240 mila per lo Stadio Pacifici, con il rugby in eccellenza che non riceve altri contributi, continua Trevisiol e si arrangia in tutto il resto. Circa 100 mila euro per il parasporte Barbazza, ma serviranno altri 50 mila per i nuovi spogliatoi e per cambiare i serramenti. Le utenze di acqua, luce e gas, gli stadi Zanuto ed Avanzo, ancora lì per pagare il comune intervenuto dove i club provvedono al resto, tra cui la manutenzione invece del verde. Allora, andiamo a Convenizio Scortegagna, adesso per vederci un nuovo scatto dal territorio c'è Foto Reporter. Grazie a Venezio Scortegagna, grazie a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto orientale, ci ritroveremo con le altre news, continuate a seguirci anche attraverso la pagina Facebook e YouTube di Media24. Buon proseguimento con la nostra lette, a risentirci alla prossima.